Claudia Ruggeri è la Miss più bella di Instagram. Le sue foto conquistano quotidianamente il web con pose e sguardi irresistibili. Nuovo giorno. Nuova raccolta di fotografie al cardiopalma della Miss più bella della TV. Stiamo parlando, ovviamente, di Miss Claudia, protagonista del social e dei pomeriggi televisivi di Canale 5, nonché della prima serata della domenica. Oggi, tra un libro e un altro, si è dedicata a una pausa studio in cui ha scattato una fotografia dalla posa sexy in cui la scollatura è super esplosiva. La showgirl, infatti, si dedica anima e corpo al suo percorso di studi in scienze e tecniche psicologiche, a cui tra l'altro si è iscritta con la collega di avanti un altro Laura Cremaschi. Le due condividono praticamente tutto e questa ne è la prova. Nonostante sia oberata di impegno tra il lavoro e lo studio, la Ruggeri trova sempre del tempo da dedicare ai suoi fan di Instagram che, coccola, sempre con fotografie mozzafiato in cui si diverte a giocare con sguardi provocanti e pose irresistibili. Oggi, immancabile, è arrivata la foto del giorno. La showgirl ha postato uno scatto in cui assume una posa sbarazzina, come se stesse pensando e infatti come commento ha aggiunto una nuvoletta. Cosa avrà in mente Miss Claudia? Lo sguardo birichino è divertente e ammaliante allo stesso tempo. Mentre ce la godiamo su Instagram, la showgirl ha già annunciato, nelle sue stories, di rimanere sintonizzati su canale 5 questa sera perché la puntata di Avanti Un Altro sarà alquanto scoppiettante. A presto! Grazie a tutti.